Abbiamo un ospite molto importante e molto particolare che è un grande campione sportivo. Ascoltate un po', indovinerete subito chi è. Grazie Daphne, abbiamo qui con noi un grande campione di calcio che dalla musica capirete immediatamente chi è perché con questa musica si capisce a quale squadra ha appartenuto e appartiene questo grande campione. E con noi il grande Francesco Totti! Salutatevi, Totti, non di schiena, lo sappiamo che è lei. Saluti la signora Daphne Barillaro. Piacere, stringa la mano bene, non è un arbitro, stringa la mano bene. Non vorrei che Ilari mi vedessi. Ma chi se ne frega di Ilari. Allora non mi vedi. La congedi, no, no, stia fermo, stia fermo. Vi lascio a Francesco Totti e alla sua intervista. Grazie, un applauso per Francesco Totti e anche per la Barillaro che ci lascia momentaneamente. Totti, che è sta faccia? Dobbiamo fare un'intervista, lei sa, oggi ha accettato di fare un'intervista, quasi un'intervista doppia. Facciamo quindi le domande più semplici. Allora, nome, nome. Francesco. Perfetto, va bene. Cognome. Francesco Totti. No, senta, dica solo i cognos, gli stacchi, va bene. Allora, professione. Non l'ho capito. Non ha capito. Professione. No, alla domanda ho capito, non ho capito quella professione. Cioè io sulla carta di identità ho proprio scritto, non l'ho capito. C'è proprio del pezzettino, c'è scritto così. Sento un po'. Allora, altezza. Lo sono sempre stato. Non ho capito. Che cos'è sempre stato? No, sono sempre stato all'altezza. Totti, senta un po'. Si concentra, faccia la faccia di chi si concentra. È uguale a quella di prima, non è che l'ha cambiata molto. Allora, concentriamo avanti. Allora, vediamo, facciamo una domanda molto più mirata. Allora, occhi. Facile. Due. Oh, meno male, questa è la zecata. Piedi. Due, è normale. Sempre. Segni particolari. Eh, oia, un sacco proprio. Totti, segni particolari. Segno, sì, ho sempre segnato. Non c'è niente da fare con lei. Le faccio fare un applauso dai cantanti, così si sveglia. Fategli un applauso, amici cantanti. Perché Totti ha bisogno... Cosa si guarda in giro come se avesse visto passare Cassano? E poi ne parleremo di Cassano. Allora, se lei ha smesso di giocare, ma che ci fa con quella maglia lì se ha smesso di giocare? No, questa non è una maglietta. E che cos'è, scusi? È il pigiama. È come il pigiama. Quindi lei ha la maglietta di andare a Roma per andare a dormire. Ma se per caso dovesse mettere al posto di quella Roma per andare a dormire come pigiama la maglietta della Lazio? E chi dorme? Perché? Per l'incubi. Senta un po'. Ma lei per addormentarsi che fa? Conta le pecore? No, contro i giocatori della Lazio. Intanto è la stessa cosa. È la stessa cosa. Non sia sportivo, non vada contro l'altra squadra. A questo proposito le chiedo come mai lei da dirigente ha detto ai suoi compagni di fare gli allenamenti mettendo anziché gli scarpini le pantofole. Per non disturbare la Lazio. E perché? Perché sta sempre su tu. Ah, ridaglie. Allora che non è sportivo. Lei è un grande campione, deve essere più sportivo. Ascolti. Allora, dunque, lei è un personaggio sulla bocca di tutti, no? Allora, ci dica una cosa. È vero che ha scritto un libro? Sì, ho scritto un libro. E quindi? Ma ancora non l'ho letto. Come è? Se l'ha scritto, come fa a non leggerlo? Totti, lei sta peggiorando come dirigente, lo sa? Io non c'ho tempo. Ma senta, c'è, mi hanno detto, un pettegolezzo che la riguarda quando era bambino. È vero che lei da bambino voleva fare il benzinaio? Sì, sì, mi piaceva proprio, volevo fare il benzinaio. E perché proprio il benzinaio? Per avere una carriera super. Invece l'ha fatta senza piombo. Senta, allora a questo punto la domanda, lei, come abbiamo detto prima, ha avuto come amicizia, una grande amicizia con un grande giocatore che era Cassano. Poi ci ha litigato. Perché quel giorno, fattiti con il quale parlano tutti, ha litigato con Cassano? Perché quel giorno Cassano ha indovinato un congiuntivo. Un miracolo. E mi ha fregato. Un miracolo, è stato un miracolo. Poi lei quell'anno doveva andare a giocare a Real Madrid. Ma perché non è andata a Real Madrid? Perché ho visto sulla cartina e non ci ho trovato Real. Ma perché non poteva cercare a Madrid? Faceva prima, no? Allora, ci dica una cosa. La domanda è importante. Si parla tanto di corruzione, si parla di arbitri che sbagliano, si parla di VAR eccessivo. Ma a questo punto, perché questa novità? Da cosa si capisce, ad esempio, se un arbitro è stato comprato? Perché c'ha tre cartellini. E quali sono? Uno giallo, uno rosso e uno col prezzo. Senta, l'ultima domanda. Se lei dovesse esprimere con un motto il calcio di oggi, il calcio di oggi è fatto di soldi e di poca appartenenza alla maglia, invece lei l'ha sempre avuta. Qual è il motto del calcio di oggi? Il pallone è rodondo, la segna è circolare. Francesco Totti! È normale che... Grazie.